Bene, allora adesso dopo aver visto questi teoremi fondamentali del calcolo differenziali e alcune applicazioni andiamo a vedere come si studiano i massimi e i minimi. E' una tecnica che abbiamo già appreso perché da un punto di vista euristico, intuitivo, era evidente, però adesso siamo in grado di spiegarla in modo più rigoroso. Come al solito partiamo da una funzione f definita su un intervallo j a valori in r e prendiamo per il momento un punto x con 0 appartenente a j che sia interno a questo intervallo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è sicuramente un intorno completo di questo punto x con 0 meno a x con 0 più a con a maggiore di 0 che è incluso nell'intervallo j. Per il momento facciamo delle ipotesi di regolarità, cioè aggiungiamo delle ipotesi di regolarità alla nostra funzione. Cioè supponiamo che f sia derivabile su x con 0 meno a x con 0 più a ed inoltre assumiamo che x con 0 sia punto stazionario di f. Sia punto stazionario di f. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che f' di x con 0 deve essere uguale a 0. Allora, che cosa possiamo dire? Quindi attenzione, se f' è maggiore di 0 abbiamo detto che f è strettamente crescente, naturalmente su questo intorno. E poi, se f' è minore di 0, e poi se f' è minore di 0 sull'intorno destro di x con 0, x con 0, x con 0 più a, cioè f è strettamente decrescente su questo intorno, Allora, attenzione, x con 0, quindi deve crescere e poi decrescere, x con 0 è un punto di minimo locale. E' un punto, chiedo scusa, di massimo locale. Facciamo una figura, supponiamo che questo sia x con 0, abbiamo detto che deve crescere e poi decrescere, supponiamo che questo sia x con 0 meno a, x con 0 più a, e allora è chiaro che questo è un punto di massimo locale. Adesso supponiamo che avvenga, diciamo questo, cioè se f' è minore di 0 sull'intorno sinistro di x con 0, su x con 0 meno a, x con 0, quindi vuol dire che f' è strettamente decrescente su questo intorno, e poi se f' è maggiore di 0 su x con 0, x con 0 più a, quindi questo vuol dire che f' è strettamente decrescente su questo intorno, allora noi possiamo dire che x con 0 è un punto di minimo locale. Quindi facciamo una figura per fare vedere questo fatto. Quindi abbiamo detto che a sinistra di x con 0 deve decrescere, poi a destra di x con 0 deve crescere. Ok? Quindi se vogliamo qui mettiamo x con 0 meno a e qui mettiamo x con 0 più a. Ecco, però adesso ci sono altre possibilità. Cioè noi possiamo avere la possibilità che f' sia maggiore di 0 sia sull'intorno sinistro di x con 0, sia sull'intorno destro di x con 0. Quindi attenzione, questo significa che f è strettamente crescente su questo insieme. Allora ci troviamo in una situazione di questo tipo. Prima disegniamo la situazione e poi diamo il nome a questo punto x con 0. Quindi siamo in una situazione di questo tipo qui, x con 0 abbiamo detto che deve crescere e poi abbiamo detto che deve ancora crescere, sia a sinistra che a destra del punto x con 0. Allora attenzione, x con 0 è un punto di flesso a tangente orizzontale e ascendente. Adesso supponiamo che avvenga quest'altro fatto, cioè se f' è minore di 0 su x con 0 a meno a x con 0, unito x con 0, x con 0, x con 0 più a, in altre parole f è strettamente decrescente su questo insieme, Allora x con 0 è un punto di flesso a tangente orizzontale discendente. Va bene? Facciamo anche qui una figura per far capire come si disegna un flesso a tangente orizzontale discendente. Quindi abbiamo qui il punto x con 0. Allora abbiamo detto che la funzione deve decrescere a sinistra e deve decrescere a destra.